domani 21 giugno è la festa europea della musica nata in francia 34 anni orsono e da allora ogni anno le città europee che vi aderiscono vivono una giornata di immersione completa nel mondo delle note musicali sono 80 le città italiane dove si festeggia questo linguaggio universale tra cui fano per il terzo anno consecutivo questa festa aperta a tutti amatori e professionisti che desiderano esibirsi viene concepita come un grande palcoscenico le città per l'appunto dove il pubblico ascolta suoni generi musicali gruppi differenti tra loro ma tutti uniti dalla stessa voglia di far spettacolo quest'anno amministrazione ancora più vicina questa bella giornata di pace di arte i ringraziamenti vanno paolo casisa che ha organizzato subito questo evento in città già negli anni scorsi dandogli un'importanza che merita perché fanno si collega una rete internazionale e poi quest'anno c'è un programma veramente pervasivo nella città nel senso che la collaborazione con gli esercenti e 20 punti di concerto faranno di questa giornata veramente un momento speciale 20 i concerti spalmati tra tutto il centro storico il lido e la sassonia dalle 18 alle 24 dove non mancheranno le particolarità come il gruppo della vagaband una band i cui componenti hanno doti possiamo dire speciali quali sono i generi musicali che si potranno ascoltare qual è il range di ascolto sì questa è la bellezza della manifestazione perché copre assolutamente ogni tipo di musica dai dai cori al rock dalla musica etnica alla canta autorale la new wave la musica classica qualsiasi cosa quest'anno parteciperà una band è una band diciamo molto speciale che a volte facciamo anche difficile a mettere in un contenitore di caratteristiche aggettivi perché bisogna vederli ascoltarli un'occasione anche per vivere la città in un modo nuovo e stimolante alla quale esercenti e commercianti hanno risposto molto bene è una sinergia importante in quanto appunto tutti i bar ristoranti piuttosto che attività balneari hanno organizzato il loro evento e quindi ci sarà questo bellissimo percorso per tutta la serata per da visitare per tutti per tutti noi fanesi anche tutti i turisti